Pisoni Oreste sono io. Non pensavo che fossero così tanti. Come sono cambiate le attività svolte dalle persone? Quelli che lavoravano qui nel paese erano tutti mesadri, ognuno lavorava la propria terra. Aveva circa tre etari di terra per ciascuno e si coltivava innanzitutto i prati per tagliare l'erba per le mucche perché ogni 42 mesadri c'era una stalla e lì si teneva dalle tre alle quattro mucche secondo la possibilità di ognuno. Oltre che il prato e le mucche aveva la stalla, nella stalla c'era anche il maiale, c'erano le galine, c'erano i cunili e lì si viveva in quel modo lì. Si produceva quello che serviva per mangiare nelle nostre famiglie. Dopo la guerra invece è cambiato tutto. Perché? Perché la visione, la ripresa economica praticamente, ha portato la gente a capire che il futuro non era più quello di lavorare solo la terra. All'inizio si per i primi 15 anni, ma dopo si doveva vedere il futuro e attrezzarsi con delle macchine. Io sono stato il primo a comprare una macchina che ha servito tutta la valle per nove anni a falciare l'erba. Io ero, ma poi questi nel frattempo erano passati vent'anni. Io già a 18 anni lavoravo nella mia terra perché noi nella mia famiglia eravamo in nove figli, tre maschi e sei femmini. Pena che abbiamo potuto studiare dopo la guerra che l'esercito in ritirata dei tedeschi era andato via, è andato in Germania, era finita la guerra, allora è venuto l'armistizio e allora abbiamo cominciato a lavorare. e praticamente io ho visto l'utilizzo di avere questa possibilità di lavorare e guadagnare anche, più tagliavo l'erba per tutti quelli che volevano tagliarla, quelli che non erano capaci di lavorare a mano perché allora macchine non ce n'erano e allora chi tagliava a mano doveva lavorare dalla mattina alle 4 del mattino fino che arrivava alle ore calde fino alle 10 e dopo andava a mangiare, riposare un po' e dopo tagliava ancora l'erba. Ma a tagliare quell'erba lì, che tagliavano loro, loro ci impiegavano due giorni, no diciamo un giorno completo o due giorni secondo la particella di erba che volevano tagliare. e io con la mia facciatrice in un'ora le la tagliavo. Allora hanno capito che non voleva la pena lavorare a mano. Ha visto, allora veniva a chiedermi a me se gli tagliavo il campo e allora mi pagavano e io tagliavo il campo. Ma io ho lavorato molto, 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 sai, dalla mattina alle 4 del mattino fino a tante volte, non sempre, ma tante volte quando c'era il bisogno, anche fino alle 10 di sera. Di notte anche, con i fanali, perché sulla mia facciatrice avevo già applicato dei fanali che potevo lavorare anche di notte. Ma tutti gli altri invece coltivavano prima l'erba, poi il grano per fare il pane, poi la frutta, che qui c'erano le mele, c'erano tutte le piante, le uva e tutte le altre piante da frutto, più tutti gli altri cereali. Allora, ognuno faceva questo lavoro tutti i giorni e si aiutava di uni con gli altri. Per quanto uno non riusciva perché era mare vecchio nella casa o perché non aveva mano d'opera o perché si ammalava, gli altri cercavano di aiutare loro. E lavoravano anche, col permesso del parroco, lavoravano anche la domenica per farle questo piacere. Ecco, questa un po' era la vita in cui vivevamo noi. era un giorno festiva, era un giorno del Signore. Allora, noi avevamo il divieto di non lavorare. La nostra coscienza ci diceva che quel giorno lì ha riposato il Signore e riposavamo anche noi. C'erano le motoseghe? Le motoseghe? Sì, c'erano perché io sono stato il primo venditore delle motoseghe qui nella nostra zona. Avevo a centinaia. La prima motosega, diciamo, io avevo già 23 anni. Venivano prima svedesi dalla Svezia, poi dall'America dopo che io ho cominciato a vendere quelle americane, fatta la prima motosega leggera. Allora io mi sono fatto l'imprenditore, mi sono scritto, ho preso degli altri operai, ho comprato i camioncini e ho cominciato a lavorare in quel senso lì. Ma io ne vendevo centinaia, un anno ne ho vendute 300. Com'è cambiata la viabilità? La viabilità c'era solo, qui alle Sanche era un bivio che venivano da Trento e qui giravano o per Riva del Garda e la valle di Brescia, oppure giravano per Tione, Val Rendena, Madonna di Campiglio e anche per Brescia. Allora qui c'era un bivio e la gente ci chiedeva tante volte qual è la strada che si portava, perché non c'erano neanche i segnali sulle strade. La gente ci chiedeva qual è la via per Brescia o la via per Riva del Garda, che era già frequentata dopo la guerra dai tedeschi. Ma le strade non erano mica spazzate, erano molto strette e tutte di ghiaia. Automobili non ce n'erano, c'erano solo i cavalli, i buoi. Dopo ho cominciato le prime automobili con le macchine vecchie che funzionavano a vapore. Nelle automobili c'era una cisterna e un fuoco che lo riempivano di carbone perché bruciava, riscaldava l'acqua e l'acqua con la forza che veniva dalla pressione del caldo faceva girare una turbina e faceva girare anche le ruote della macchina. Allora si vedeva le macchine che soffiavano il vapore quando camminavano. C'erano già le bici a quell'epoca? Sì, le biciclette c'erano, ma solo che qualcuno poteva averla. Io l'ho comprata con la raccolta del ferro e delle ossa e degli stracci che passavano con i raccoglitori poveri. Mi sono procurato i soldi per comprare una bicicletta vecchia. C'erano i pulmini? Sì, dopo la guerra prima no, ma dopo la guerra c'era un pulmo che faceva Trento e Varrendena, c'era uno che faceva Trento e Riva del Garda, mattina e sera. Che ruolo rivestiva il fiume? Per noi era una ricchezza, diciamo, il fiume, perché veniva sempre l'acqua. Andavamo, quando avevamo già 12-15 anni, anche a fare il bagno dentro nel fiume d'estate. E il fiume era pulito, l'acqua era bevibile, noi bevavamo sempre l'acqua del fiume, così noi abbiamo fatto anche, prima di me ancora, dei canali che venivano fuori, l'acqua dal fiume passava attraverso le case, quei 5-6 casoni che c'erano, e lì ognuno aveva la sua fontana e andava a lavarsi i panni e serviva per quello, ma dopo serviva per la pesca. Perché dopo il fiume hanno costruito una centrale, però quel fiume lì lo chiudevano inverno quando l'acqua serviva per fare la corrente elettrica. Mentre d'estate avevano l'obbligo di lasciare passare l'acqua, che serviva il fiume per arrigare tutta la campagna. Perché d'estate c'era molta siccità, e la campagna, la terra nostra, è tutta ghiaia sotto, la terra in superficie, e ghiaia che ha portato il fiume ancora millenie anni fa. A volte era un pericolo perché il fiume, sono morti 3-4 giovani che conoscevo io, perché andavano nel fiume quando era in piena e portava la legna, allora si andava a prenderne la legna in superficie all'acqua con un pallo lungo in ancora, si prendeva il legno che portava il fiume, se lo tirava a fianco e poi se lo prendeva da bruciare. E quando erano i giorni d'estate o i giorni delle piogge, perché allora l'autunno pioveva sempre, tanto ma tanto, il fiume arrivava a livello dell'Argin. E lì così allora bisognava stare molto attenti e magari scappare. Allora io quando è straripatto qui, avevo i maiali nella stalla, ho dovuto caricare i maiali di notte, mi hanno svegliato che pensavo che non si alzasse così tanto il fiume, però è venuto sull'Argin. Ho portato via, prima i maiali, poi avevo già 20 anni, 21. Poi sono andato via a dare una mano ai pompieri sull'Argin e ho rischiato anche io di essere annegato. Mi sono preso delle piante che c'erano sull'Argin perché l'acqua che era, ero dentro l'acqua così, perché ho visto il pericolo che praticamente il fiume e quelle piante lì hanno fatto barriera all'acqua e l'acqua veniva giù verso quelle case che ci sono lì di adesso dove sono i capannoni. L'Argin aveva già creato una buca molto grande come staola qui nell'Argin e ho visto che se continuava così lì buttava anche l'Argin e allora straripava da lì. E io in quel momento avevo un po' di paura ma l'ho fatto insomma perché nessuno ne lo faceva. e praticamente dopo però da diciamo da mezzogiorno, non un po' prima ancora, ho cominciato a calare l'acqua perché la pioggia aveva ammesso di cadere. Allora dopo è diventato invece straripato qui al ponte del Gobbo e lì hanno venuto fuori tutto il fiume perché tutte quelle piante, piante magari da 12 metri si sono messe attraverso le arcate e hanno fatto la diga per l'acqua. Allora l'acqua è salita sull'Argin, ha rovinato l'Argin, l'ha portato via e è passata giù fra le case qui di Mas del Gobbo tanto per dire cosa era il fiume, ma noi servivamo per la pesca o per tagliare dei salici che c'erano nei fiumi per far legna, per bruciare, oppure dei vimini. C'erano i vimini, si tagliava e io andavo e c'erano degli artigiani che veniva a chiedermeli quando avevo 7, 8, 10 anni. Facevo dei massetti, li liberavo dalla buccia e li facevo dei massetti e dopo venivano e io li prendevo dei soldi. Noi eravamo già nella fase dell'invenzione, nella fase dell'evoluzione perché prima della guerra non era così ma dopo la guerra è diventato così. I vimini servivano puliti dalla corteccia, servivano per fare i cestini o per fare quei lavoretti di bellezza che ci sono dove mettono la frutta o i regali o quelle cose così e gli altri invece servivano per fare delle ceste o dei raccoglitori dove si mettevano le patate, si mettevano le zucche, la frutta e venivano intrecciati, c'erano degli artigiani che li facevano, li intrecciavano qui e venivano artigiani per noi, chi li chiedeva, li preparavano, così avevamo dei contenitori per la raccolta. Sì, bisognerebbe spiegarlo a lungo, far vedere le cose, allora capirete meglio, ecco. Se guardate nel fiume del Ciarca, adesso lo tagliano e fanno legna o lo trinciano il legno che c'è ma nell'interno c'erano delle isole, c'era anche più avanti che più largo il fiume, erano molti vimi e lì io mi sono nevato proprio per un miracolo che non mi sono annegato perché l'acqua, volevo attraversare la divisione del fiume per andare di là a tagliare i vimini che erano belli e andare via quando sono stato lì vicino, fortuna ho trovato un sasso, ho messo il piede sul sasso perché l'era alta così e era molto anche in pendenza l'acqua e allora ho rischiato di annegare comunque ho fatto quel lavoro lì anche. Volevo chiederle per curiosità, siccome proprio oggi ho visto al di là del ponte c'è una lapide ho scritto con la foto di due giovani, c'è scritto per Iro, no? Ah, ecco, lì era, sì, è abbastanza recente, diciamo sarà una questione di 40 anni questo più recente? Ecco, e il ponte, il vecchio ponte era su due arracatte di legno quando è venuta molta acqua, con le piogge perché piovevano anche in una settimana allora di continuo ma piogge proprio e il fiume arrivava fino sull'argine, dopo l'hanno alzato un po' l'argine ma prima era più basso di un metro e allora veniva su facilmente, però l'argine era in pendenza per cui usciva dall'argine, veniva sull'argine, poi rientrava e lì così la tanta acqua ha portato via il fondamento del tralizio che era indegno, ha scavato sotto, è caduto il tralizio e praticamente il ponte che era stato fatto da poco anche è crollato, il ponte dove era messo in due parti sul tralizio, uno è rimasto sul tralizio, l'altro è calato, è andato nel fiume allora quei due signori lì che venivano dalla rendenna a lavorare qui al cementificio è stato di notte, nessuno ha potuto fermarli perché non c'era nessuno, sono caduti alle 4 del mattino sono caduti nel fiume con la propria vettura che aveva una 600 allora, una 500, una 600 e l'hanno trovata poi dopo qui a 4 km nel fiume e loro due purtroppo c'erano le barche? noi d'estate andavamo sempre sul lago di Toblino perché l'oratorio veniva fatto qui alla vila che c'è sul lago allora lì si poteva praticare la barca e anche la pesca ma nel castel Toblino chi ci abitava? nel castel Toblino durante la guerra ci erano i conti Volkestein austriaci e di proprietà loro dopo l'hanno venduto a un altro signore qui quali animali erano presenti in casa e nei dintorni? allora c'erano tutti come detto all'inizio una stalla in cui avevamo più che 3 o 4 animali per famiglia e lì avevamo le pecore, avevamo il maiale, i cunili e le mucche che si mungeva il latte qui mungevamo già il latte, avevamo già il caseificio che c'è ancora da abbattere che è vecchio non so se avete visto quella casa vecchia che c'è lì dall'oratorio si vede giù nel piazzale, è la prima casa che vedete, vecchia ecco si portava il latte mattina e sera tutti i giorni, i 42 soci erano tutti soci del caseificio e ognuno portava il latte e ognuno prendeva il latte che portavano quando facevano la caserata, quando facevano il formaggio quella stradina che viene, quella stradina che viene qui dalle giudicarie attraverso il ponte che senti giù lì che va verso i Capanoni, quella casa che trovi lì era il caseificio quando portavate il latte al caseificio dopo vi davano qualcosa in cambio? come funzionava il caseificio? siccome i 42 soci che eravamo come agricoltori, ognuno portava il latte al caseificio e quando aveva una quantità di latte da fare il formaggio, veniva fatto il formaggio tanto per dire portavano fino a un quintale di latte e che ne caseravano un quintale allora chi arrivava al quintale veniva a utilizzare tutto il latte di quella caserata di quel giorno lì tanto per dire erano 100 litri di latte, facevano 10 kg di formaggio allora quello era il proprietario di quel quintale di latte lì e veniva custodito nel caseificio io per conto suo, ogni socio, ogni socio noi avevamo il formaggio nel caseificio che animali c'erano e quali potevano essere cacciati? qui c'erano i caprioli, c'erano le lepri, il tasso che è una specie di animaletto non come animale, come il maiale, ma vive sotto terra, fa delle buche adesso ce n'è ancora qualcuno ma poco e quelli si cacciavano che nuovi insomma poi c'era la volpe, la volpe che dovevamo stare molto attenti perché arrivava a rubarci le galine ci parlavano dell'orso che c'era allora, ma però era sua Madonna dei Campigli qui non c'era, c'era l'orso bruno allora, che adesso ci sono anche troppi che fanno anche dei danni e la gente ha paura e questo è anche uno sbaglio, bisogna che sia quel numero limitato da poter convivere con la gente ma non che sia un pericolo per la gente o che tutti gli uomini abbiano paura dall'orso nel fiume c'era la trotta Vario e poi c'era i Cavedoni, dicevamo noi Cavedoni, che è un piccolo pesce che serviva per, diciamo, alimentare anche il nutrimento per la trotta perché la trotta mangiava questi piccoli pesci, ma ce n'erano molti, molti, molti e noi tutti gli anni che chiudevano il fiume per l'inverno e lo aprivano in primavera andavamo a prendere i pesci che rimanevano sull'asciutto quando l'acqua si entrava nella terra si asciugava in sostanza e io ne ho presi molti di quelli, c'erano di quei pesciolini ma mi alzavo alle 4 del mattino Oh, quelli erano buonissimi, c'era mio padre e poi mi diceva vai ma ne ho presi anche 4-5 chili per quello che il fiume adesso lo lasciano correre anche d'estate Le lontre? Sì, ne ho viste una, io ne ho viste una, la lontra che c'era nel fiume quella mangiava le trotte, li nascondeva fra i sassi nel fiume, nel letto e aspettava che arrivasse la trotta e quella la mangiava era grande circa 10-12 chili, un animale molto aggressivo, c'era qualche anguilla, anche le anguille noi avevamo nel lago di Toblino specie c'era molti, lì c'era molto pesce, il pesce persico Volevo chiederti se ci sono ancora i pesciolini che pescavi, i piccoli, che ci hai appena detto No, no, non l'ho più visti, sono scompariti, forse quelli sono eliminati per l'inquinamento delle acque Ma il fiume era più grande di adesso? Il fiume? No, gli argeli sono sempre rimasti gli stessi, l'hanno alzato praticamente perché non strarrippi verso la campagna, verso la valle, quello mi ricordo io che l'hanno fatto, alzato di un metro Ma le case erano tante o poche? Tranne che sulla salita che c'è, sulle curve, quelle lì erano fatte di più, ma erano un po' di case lì Erano solo cinque, una al primo del paese, seconda al convento, che è qui dove c'è il ristorante Terza il cason rosso, quarto era il casone dove abitavo io, che è questo qui sul ponte E poi c'era quella del Salbetta, che è di là del fiume La città di Trento la bombardavano perché c'era un ponte sull'Adige che la ritirata dei tedeschi passavano di qui dal lago di Garda e andavano verso la Germania e dovevano passare quel ponte per andare in Germania E tutti i giorni veniva bombardato Alle otto e mezzo del mattino, veniva bombardato sul ponte dei Vodi Erano sette quegli aerei lì che bombardavano Erano per conto suo, non andavano in Germania quelli, rimanevano qui a bombardare in Italia E due di quelli aerei lì, uno di quelli aerei lì non ha agganciato le due bombe ultime che aveva nell'aereo sul ponte dei Vodi, ma le ha agganciate qui a Sciarca, sopra il nostro ponte che attraversa il Sciarca E io in quel momento che veniva la bomba, ero proprio nel piazzale, erano le otto e mezzo del mattino, le nove Sentivo, contavo gli aerei, ma come mai? Ne sono passati sei e il settimo non è passato E' venuto dopo, agganciato due bombe sopra il casolare che c'è di là del ponte Era un albergo, l'albergo Salvetta E sono venuti giù parallelamente al ponte 30 metri sopra l'albergo Sulla roccia che c'è lì Questa è un po' la storia Quel casone dove abitavo mio era lungo 100 metri dal vicino al Sciarca venendo fino qui dove c'è la strada che gira giù Diciamo, prima è distrutto dall'incendio Io avevo 25 anni No, però di più, 30 E' scoppiato un incendio E' bruciato un camino della stufa E' bruciato tutto Io sono stato il primo a arrivare lì, che ero in chiesa Il prete ha fermato la messa Anche ha detto Andate che brucia il casone C'erano ancora 5 stale con dentro le mucche Ho parato via le mucche dalla stala Parate nel campo E dopo Mi sono messo a aiutare gli altri che c'erano lì Ma è bruciato tutto C'erano poche persone anche Io però già da allora Mi avevo costruito la casa Dove ci sono il negozio dei cinesi Come erano organizzati i casoni? Noi eravamo In 11 famiglie In quel casone che adesso non c'è più Che lì eravamo in 105 persone Io ho contato di notte Così quando Mi ero sveglio Mi avevo in mente di contare quanti erano a giocare E quanti eravamo noi nel casone E lì C'era Tutto un corridoio Con tutte le cucine Sopra C'era l'altro piano Con le stanze di ognuno Ognuno aveva la sua stanza Ogni famiglia aveva quelle 2-3 stanze Ecco Poi c'era un granaio Una specie di granaio Dove si metteva un po' Il frumento Nella cantina si metteva le patate O le verdure Qualcosa che serviva Il gabinetto C'è chi l'aveva Non in casa Avevamo un gabinetto male in 2 o 3 famiglie Oppure c'è chi l'aveva nell'orto Faceva una buca Metteva due assi Si proteggeva E aveva il gabinetto Però acqua non ce n'era Anche quello c'era un'usanza che Io l'ho sempre ripudiata proprio Perché è molto schifo Si raccoglieva tutto Il liquame praticamente Che arrivava dal gabinetto In una cisterna E lì si lo buttava in campagna Per fare da concime Si lo metteva Dopo la ratura Prima di piantare Il grano, i fagioli O altre colture Patate Allungava dentro più Perché era quasi prezioso Con quello cresceva molto bene Io quei primi bagni li ho fatti a Trento Partivo in bicicletta Andavo via a farmi il bagno a Trento Che c'erano i bagni del comune a Trento Poi venivo a casa Il sabato I gabinetti erano tipo delle ciotole? I gabinetti? Ah i gabinetti erano pessimi C'era proprio il minimo indispensabile Però dopo la guerra è cambiato tutto Nei pochi anni Avevamo il vaso in camera C'erano le acque dalla casa? No Io chiaro quando ero come te Dovevo servire mia mamma A portarle l'acqua in casa E non ero capace neanche Mettevo tre Due secchi prendevo Tre litri da una parte Tre litri dall'altra Per salire le scale E portarle in cucina l'acqua Ma dovevo andare a prendere la fontana Ma prima di me Non c'era neanche la fontana Andavamo al fiume a prenderla C'era l'elettricità? No Quando c'ero I primi Anni che avevo io Non c'era neanche elettricità Si aveva una lanterna Con dentro del petrolio E si accendeva quella E si metteva quella Per fare i compiti Ma li facciavamo nella stalla Capito? Perché la stalla Quando era Bastanza pulita Nel senso di avere un tavolo E poter fare qualcosa Allora si metteva La lanterna E si metteva a fare il compito nella stalla Allora c'era da noi Mia zia che mi insegnava Perché era caldo La stalla era perché In casa avevamo solo freddo L'inverno L'estate no Andavamo in cucina Ma l'acqua in casa non c'era Il gabinetto Pochi lo avevano E pochi andavano Ma ora nell'orto Che costruivano un gabinetto provvisorio Come sono cambiati gli anni da allora adesso Anzi tanti dormivano nella stalla Dormivano nella stalla perché dormivano sulla paglia Perché c'era gli animali o il fieno che si dava da mangiare Esisteva la tv? No Io la prima televisione l'ho vista a Riva del Garda Avevo 21 anni In famiglia cosa si mangiava spesso? Eh lì purtroppo il pasto primo era la polenta Fatta con il grano di mais E dopo il pane Ma il pane ce n'era poco Perché non cresceva tanto bene qui C'era tanta siccità Allora io dico Quando ero ragazzo come voi Pensavo, dicevo A mia mamma Guarda quando ero grande Coltivo io il grano da fare il pane E difatti sono arrivato dopo Quando avevo 16, 17 anni Ne facevo 14, 15 quintali Ne mangiavamo Eravamo in tante famiglie Mangiavamo un quintale di farina al mese Se no si mangiava la polenta con l'uva Ecco E un po' di latte Il polenta con l'uva Un pelo di zucchero quando c'era E non c'era il zucchero Qual era il tuo piatto preferito? Era il purè di patate Oppure Quando ammazzavamo il maiale Ecco Allora il maiale con la lucanica O con la pasta del maiale Quando si faceva i salami E il pane E il formaggio anche C'erano i vestiti? Si Ma pochi Sai che lì allora I vestiti venivano fatti Nelle nostre case Dalle nostre nonne Dalle nostre mamme Facevano i calzetti Con gli aghi A uccinetto I vestiti I sarti c'erano anche allora Le stoffe c'erano Non come oggi Ma c'erano anche allora Io ricordo un particolare Che mi è rimasto sempre impresso Che la stoffa Per fare tre vestiti Per noi bambini Che eravamo tre Perché Da un palto De un soldato Tedesco Ha ricavato tre vestiti Per noi Perché era talmente grande Con la fodera interna E a me mi aveva fatto un vestito Che era un po' grigio Bello Tutti mi dicevano Ma dove hai presa la stoffa Ma come ha fatto Ha fatto un vestito così bello Mia zia Mia zia che è morta A cento anni Come si lavavano i vestiti? Ah i vestiti Si lavavano sempre con l'acqua Ma si faceva il bucato Con la cenere del fuoco Si riscaldava l'acqua col fuoco Si buttava la cenere sui vestiti Nel Brento E lì buttavano tutta l'acqua Che passasse attraverso i vestiti E poi venivano risacquati con la stessa acqua E venivano puliti Come erano fatte le scarpe? Eh le scarpe purtroppo Le prime erano zoccoli Con sopra un po' di O di Di paglia Oppure di Di pelle Le zoccoli servivano dell'inverno L'inverno molto per la neve Tenevano anche i piedi caldi A Sarkis c'era molta neve Molta Diciamo Rispetto all'ambiente in cui siamo Perché Diciamo Nevicava tutti gli anni E il ghiaccio c'era E noi Tanto per dire Quando prima di andare alle funzioni in chiesa O anche quando eravamo liberi Qua appena che avevano asfaltato la strada Creavamo delle piste da sciare Allora il ghiaccio Quindici anni ho dovuto andare dal dottore continuamente Per strapparli Perché mi faceva malati Ma non c'era niente Non c'era la cultura di lavarsi i denti Lo spazzolino dopo è venuto Seppina che si poteva fare il spazzolino Quando sono venute le scuole E che ci hanno insegnato Allora abbiamo cominciato a utilizzare quelle cose moderne che venivano piano piano C'era il parrucchiere? No, le facevano i parrucchieri I conoscenti del paese Quei che volevano prestarsi per gli altri Facevano i tagli dei capelli O la pettinatura C'è qualcuno che lo faceva C'erano i gioielli? Sì, sì, i gioielli sono sempre stati Esistevano i trucchi? Sì, quello sì C'era ancora lui Anche gli occhi Io ero in campagna Che lavoravo E sono passate Due signorine Belle truccate Erano tedesche Che accompagnavano i soldati Durante la guerra Coltivavo il tabacco Perché noi eravamo obbligati A mettere in una tabella Le piante che c'erano Il tabacco, la qualità Dopo sì Il tabacco viene alto Però si tagliava E faceva le foglie grandi Per fare i toscani Per fare quelle cose lì Queste due signorine Mi hanno detto Possiamo fermare a guardare Io ero lì che Levavo le foglie di tabacco Mi dico Avevo capito poco Ma ho capito qualcosa Avevo Dieci anni Avevo Nove Dieci E hanno letto la tabella Che ho messo Sulla Sulla La piantagione Di tabacco Ma cosa vorrò dire Se sono dette fra loro Ma si vede che Sarà morto uno E metto la tabella Nella sepilitoria Hai mai fumato? No No Io non ho Ho provato a fumare Quello è vero Quando andavo a Pasqua Con le mucche Ho fumato Ma mi lasciava una bocca Molto cattiva Dico no E poi Ho iniziato a pensare Che mi piaceva andare in bicicletta E mi hanno detto Che andare in bicicletta Non bisognava fumare Che sennò i polmoni Venivano tarati dal fumo Allora io dico Io non fumo Perché voglio correre in bicicletta E infatti poi Io posso In bicicletta Ma c'era all'ospedale? Sì Io sono M'ho portato all'ospedale Che avevo cinque anni Perché avevo l'ernia Non so come Perché Trappievo a piangere Non so come Dopo Ho portato via Un mese Mi hanno operato Mi ho sentito male E' la prima volta Che sono andato Con la macchina Che era una balida E mi hanno portato a Trento Lo sono andato a casa dopo E dopo sono ritornato Perché mi è venuta la polmonite Mi ha portato via Per l'operazione E poi scappata E mi hanno chiuso In una stanza Di giocattoli lì Senza mia mamma Mi sono messo a piangere Non sapevo più Però Sono venuta E' venuta A trovarmi Una domenica dopo Lei è nata È nato In ospedale O a casa? Non ci andavo all'ospedale Ah no? Se non c'era un motivo grave Riconosciuto dal dottore Non ti portavano all'ospedale C'erano i soldi? No? I soldi ce ne erano molto pochi Vedi che Io raccoglievo Le ossa vecchie Per darle a chi Le trasformava in sapone Mi facevano con le ossa Facevano con le sapone Allora Mi davano i soldi E prendevo Un centesimo Una lira Non so Allora quando Ma poco 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 C'erano i negozi E cosa si poteva acquistare? Beh il negozio si comprava Diciamo sì In generi di prima necessità Anche loro c'erano il pane Il pane, la farina Tutti gli altri elementi Che uno può comprare nel negozio Ma poche cose Non è che ci sia stato Oggi c'è di tutto La scuola era situata Dov'è oggi? Eh la scuola era Al posto del negozio Di alimentari che c'è Dell'Unelli No l'Urvea è stata Costruita molti molti anni dopo L'Unelli è vero Lì c'erano tre aule di scuola All'inizio due E dopo Siamo cresciuti come popolazione Allora eravamo tre aule in calore Tempo della guerra Invece venivano qui anche degli sfolati E allora eravamo in 105 Mi ricordo quando andavo via Era in 105 E cosa c'era qui al posto della scuola? Ah qui questo edificio non c'era niente C'era bosco E viti e pesche Qui è stato costruito praticamente 30 anni fa Presa poco è dopo Perché qui era Il feudo della curia praticamente Ricchideva tutti i boschi La campagna Fino a Rimone Fino a Mardelgobo E tutto Quanti bambini frequentavano la scuola? Ecco Quando ero io Che non c'era chi altri Eravamo 60 70 Due Due classi In tutti i paesi c'era Ma Allora avevano le scuole Anche con 8 o 10 ragazzi Montolivetti faceva parte delle sarchi Quando ho frequentato io Fino a 3 In terza In quarta Poi da quarta alla quinta Si andava nell'altra classe Ma eravamo due insegnanti solo Dopo sono arrivati a 3 Con l'aumento dei bambini Ma diciamo che Chi era capace di tenere l'ordine della scuola Non serviva Nel bastone Né niente Ma chi non era capace Allora usavano anche il bacchetto Non è la bacchetta magica No Ma diciamo Faceva finta di doperare il bastone Anche il metro che c'era da misurare nella scuola Era di legno E a volte il nostro maestro andava a prenderlo Dice guardate che se non tacete Adopero questo E allora si obbediva Perché noi eravamo come voi Che ci lasciandare Però Se cominciavano a ragionare Si obbediva molto C'era qui la maestra del paese Che è abitata qui Nella casa che c'è qui Nell'asilo Che è morta lì Maestra Fronza La quale Io sono andato 3 anni Ho imparato Prima con una maestra Non ho imparato niente Ma con la Fronza ho imparato Ho cominciato Non sapevo nemmeno fare le aste Io quando sono andato a scuola Capito? E allora Allora però Con l'ordine E il silenzio Che ci costringeva Ho cominciato a imparare Ho imparato tutto Ho imparato tutto Adesso Non ho potuto andare Tutti gli anni a scuola Perché dovevo lavorare In campagna Perché già a 13 anni 12 anni Ero già in campagna Qui vuoi Arrare la terra O raccogliere le potature O cavare l'erba Dalle piante E dal mais Per poter Lasci che cresca Il grano Ma la cavevamo Con un grembiule di sacco E con le mani eh Giorni e giorni Durante le vacanze della scuola Si puliva la campagna Ma era bello Anche allora così Adesso E' bello solo Se potete giocare E fare quello che volete Ma non è vero E' bello anche Cominciare A capire Come si può fare A lavorare Per il futuro Anche per voi Se imparate Vi serve Vi serve Dopo quando avete Una certa età Volevo chiedere Ma Ma tu a scuola Eri bravo O Virichino Io ero un po' Virichino Io ero Virichino Però I primi tre mesi Che sono andato Non capivo niente Niente di niente proprio E c'era una maestra Che era nervosa E mi sgridava E io Non l'ascoltavo Però Quando E' venuta La seconda maestra Sempre nella prima mia classe Dopo tre mesi Ha cominciato A ragionare diversamente Allora ho cominciato Anche io A imparare A fare Le lettere E i numeri E qualcosa E dava Dei premi Ma Dei premi Molto semplici Delle Cambialine Uno Che era bravo Dava uno Uno che era meno bravo Dava due E l'altro ancora tre Allora Dico Quando ho visto che Questa maestra Premiava E sapeva E non mi sgridava Ho cominciato Io a imparare bene Allora Sono arrivato Il primo della classe Ho preso più cambialine Con numero uno Su ogni lezione Capito? Il primo dopo Sono arrivato Il più bravo dopo Ma premiato E lì Ecco Se si vuole arrivare E metterci l'impegno Ci arriva Però Bisogna avere In mente Il futuro Ma sempre Sull'argomento Sulla scuola Ma c'era anche La scuola media O solo elementare? Io C'era solo elementare Si stava fino a 14 anni E i miei Genitori però Secchi Non ha frequentato La scuola Ma Allora Non c'erano Facevano solo Tre anni di scuola Ma quando È venuto Dopo la guerra È cominciato A copiare Dall'Austria Perché mia zia Ha frequentato Le scuole Mentre gli altri Non c'erano Neanche le scuole Perché non c'erano Le medie? Perché Non c'erano Né insegnanti Né la mentalità Di insegnare Ho capito dopo Che bisogna Istruirli i bambini Perché imparino Che diventino bravi Nella vita Ma cosa c'era Il posto dei banchi? E c'erano Banchi molto semplici Il sedile E la tavola E la tavola Per scrivere Per leggere Eravamo in due In due Per ogni banco C'era la lavagna? La lavagna sì E quando non si obbediva La maestra Che si sbagliava Ci metteva in punizione Dietro la lavagna E dovevamo restare lì Fino al tempo Che diceva lei Ma c'erano Le materie scolastiche? Sì Non mi piaceva mica La scrittura E la lettura Quello no La matematica Mi piaceva Quello sì C'erano le cose elettroniche? No Non c'era niente Che c'era? C'era Il calamaio Con dentro l'inchiostro Poi si aveva il penino Si metteva il penino Nel calamaio Si tirava su Per non stare molto attenti Per non macchiare Le carte Quando si scriveva E si faceva E scrive così Ma l'uniforme Si metteva uguale? No C'era qualcuno Che aveva Un grembiule Sì Mettevano i grembiule Ma I paesi più ricchi Noi eravamo poveri Qui E neanche con tanta cultura C'era la scuola dell'infanzia? No L'asilo qui a Sarche In città Si a Trento c'era Ma qui a Sarche Non c'era In città Trento L'han L'han Fatto Per In anticipo Sotto la guerra Le suore C'erano Tre suore Che gestivano L'asilo E allora andavano all'asilo Quando E' venuto giù le bombe Qui a Sarche Perché L'aereo che era Ferito Dalla Dai canoni Della contraerea E' caduto Qui a Pietra Murata E qui nel paese Ha gettato Tutto il carico Delle bombe Aveva 15 bombe sopra Io avevo 8 anni 7 anni Praticamente Mi sono rifugiato In un In un Diciamo Un 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 Piccolo Seralio Del Del Maiale E sopra C'era Una Protezione Di Di cemento Che c'era Il primo cemento Che facevano Con gli anni lì E sono venuto giù 15 bombe Il terreno Balava così Era le Due Lune e mezza Le due Del pomeriggio Pensavo che fosse distrutto tutto Si Un fumo e basta Non si vedeva niente Quando E' andato via il fumo Mi sono reso conto Che Noi eravamo tutti salvi Anche anche in paese Per fortuna Perché Nella campagna Dove c'è il cimitero Dove c'è l'Orvea Dove c'è le altre case lì Tutte buche 15 buche De Delle bombe Di aeree Ma bombe lunghe Un metro e mezzo Uno spessore Di acciaio Grosso così Perché Io Le raccoglievo il ferro Per venderlo dopo Perché Col ferro vecchio Si davano dei soldi E allora Si cercava Di quel modo lì Ma comunque E non Ha fatto nessun danno Dopo un miracolo qui Di 15 bombe Non è La sera ha fatto Il prete La funzione Tutto il paese Andava in chiesa Ha capito? Tutto il paese Nessuno mancava C'era l'asilo nido? No L'asilo nido E' nato Non so Qualche anno Non ho mai nato Molto in Italia Ma nelle città Erano quelle che A Trento Per esempio Cosa facevate Oltre il lavoro? Eh Il lavoro Era il primo Che si faceva E quando avevamo Un po' di tempo libero Ma Diciamo era sempre O sabato O sera Ma neanche La domenica Dopo le funzioni Dopo la santa messa Perché allora Si andava a messa La mattina Alle 6 E anche Alle 10 La domenica Mi facevano due Quanto c'erano I pretti A ogni paese Ogni giorno Noi prima di andare A scuola Quando ero Come voi Andavamo Alle 7 A scuola E alle No Alle 7 Alla messa Che c'era il parroco Quella diceva E alle 8 A scuola Allora Allora si sentiva Il bisogno Di Vivere la vita Anche Per Perché C'era Più spiritualità Di oggi Oggi Diciamo Ognuno Pensa Per conto proprio Ma allora Si pensavano Più in comune Che Per fare il bene Per anche gli altri Insomma Nel tempo libero Si andava in vacanza Con la famiglia? Beh Io sono stato un po' Il fautore Delle ferie Proprio Già Diciamo Quando avevo 15 anni C'era il nostro parroco del paese Che ci portava in ferie Faceva la colonia Allora Ci attrezzavamo Per farlo Avevamo le tende Con la paglia Con il telo Ci prendeva un camion E andavamo su Madonna di Campiglio Quando avevo 14 15 16 anni E lì Rimanevano 20 giorni Ma non Fisso Io non potevo rimanere fisso Perché dovevo Anche lavorare Allora Venivo fuori Un modo Nell'altro E allora La compagna Andavo A fare le ferie Assieme a loro Perché Lì Le ferie Erano Piacevoli Che si giocava molto Era liberi Poi si andava A visitare Tutte le montagne del Brenta Che ho fatto Già A 14 anni Ho fatto La scimmatosa E' una montagna di 3200 metri E anche il Carialto Il Vioz Tutte quelle montagne Lì Riconosco Dove arriva Dove vanno a sciare I dissiatori Adesso Lassù Sul Grostè Che vanno Molto più frequentati Ma a me piaceva A me Nello sport Mi piaceva Perché ho fatto Ho fatto anche Dieci anni Di bicicletta Mi piaceva Volevo fare Il Giro d'Italia Ha capito? E non sono riuscito Perché ho forrato Il compenso Il signor Oreste Ancora oggi Almeno fino all'anno scorso Due anni fa Andava a farsi Certi giretti Importanti Si diceva Era Oreste Sì sì Quando penso Che tre anni fa Ho fatto anche Lo Stelvio C'era un parco? No Noi come parco Principale Era Era dove c'è L'officina adesso Perché sull'officina Da adesso C'era Diciamo Una striscia Molto come un prato Grande Che passa sotto l'acqua L'acqua C'è una galleria Che dal sarca Porta al lago di Toblino Che è dietro L'officina Adesso E lì si giocava C'erano i giochi? No Ho giocato lì E qualcosa c'era C'era Portavano però Da Milano Quelli che veniva Qui in ferie Qualcuno che c'era Ma quando giocavamo Come voi Quanti bambini Noi giocavamo anche Molto Anche Diciamo Avevamo dei giochi Dei cerchi Che ci costruivamo noi O dei pirli Quali servivano Per Con una frusta Di spago Farli correre Sul pavimento E noi con le frustate Continuavano A girare A forza Di frustate Ma ci ricostruivamo Noi Qui in ferie Poi c'erano I giochi Che si giocavano In comune Come a Nascondiglio O A Poma È un gioco Che si Confrontava Due squadre Per noi È stato Un seminarista Che è venuto Qui a fare le vacanze A Sarche E ce l'ha insegnato E lì Giocavamo Ore e ore Proprio Eravamo Due squadre Uno da una parte E una dall'altra Partiva l'uno E quelli che si incontravano Dovevano Prima Prima della linea Arrivare A toccare l'altro Allora Se erano veloci Magari uno Partiva Lo toccava E girava subito E entrava Allora Quello vinceva Quando non arrivavano Che l'altro Lo toccava Prima della fondaria No Perdeva l'uno Giocavi a calcio E con Che Cosa era fatto Il pallone Sì Come no Calcio e bicicletta E' una cosa che si faceva Appena appena Che si poteva fare Se lo faceva Praticamente Col pallone Non ce n'erano C'era qualche pallone Di gomma Ma si boccava subito E Sa cosa La vescica Urinaria Del maiale Con la vescica del maiale Si chiudeva con lo spago Bene bene Si la gonfiava Prima E quando Mettevamo qualcosa Con la pompa della bicicletta E li chiudiamo E così giocavamo Con quelli No I campi da calcio Non c'erano Ce n'erano qualcuno Nei grandi centri Ma qui da noi no Noi doperavamo I pratti D'inverno Che non c'era erba E si poteva giocare Nel pratto Che era molto grande E così era per noi Aspettavamo la domenica Per poter giocare Quelle quattro ore Che ci lanciavano liberi di permesso Dalle tre Del pomeriggio Fino alle sette Questa era la nostra vita Buon applauso 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 bravi bambini allora comportatemi bene, obbedite ai maestri e dopo se trasgredite qualche volta domandate scusa, vi ringrazio che mi avete ascoltato, fate bravi e crescete, vi saluto tutti, ciao